Mr. Helmet Eikma, siamo da HJC, il gigante coreano che ha anche una grande sede, una grande filiale in America, una delle aziende più attive e in più grossa espansione nel mondo dei caschi. Quello che abbiamo in mano è un casco originale, non è una replica prodotta, è il casco di Horge Lorenzo con cui ha corso il mondiale. Questo nello specifico è il casco di Horge a Indianapolis. Quando vedrete questa clip probabilmente saprete anche già chi ha vinto il mondiale, noi non lo sappiamo ancora perché domenica è mezzogiorno e 35 e quindi ancora non sappiamo com'è andata, lo sapremo presto. Le caratteristiche di questo casco ovviamente qui vedete, mi piacerebbe farvi vedere il fatto che c'è anche la cannuccia di Horge, quindi è proprio il suo, quello con il sistema per bere, caratteristica ovviamente fibra in tre calotte, questa è una chiusura speciale che avevamo già visto all'inizio, tanti qualche anno fa con Ben Spice che ce l'aveva a sinistra, è una caratteristica particolare di HJC, è un casco in fibra prettamente racing, con questa versione Mamba non ancora in commercio disegnata dal mio amico Starline, è la versione di Horge e il casco Arfa 10 Plus costa da 400 euro fino a 540 euro. Questo lo mettiamo qui e presentiamo un'altra cosa di HGC che l'amica Valentina ci porta, l'RPHA o Arfa come dico io, ST, è un turistico molto curato che arriva fino a 400 euro come costi, caratteristica importante è la visiera Pinlock inclusa, con questo sistema inclusa già anche nella confezione, migliorati gli interni per quanto riguarda HGC, c'è una visiera parasole che è sempre utile per il turismo sportivo, anche se con questo in realtà ci si può fare anche qualcosa in più, più diciamo così ciccione, più diciamo così decise le aperture, le prese d'aria che si vede che insomma si prestano ad un uso un pochino più touring, c'è un interessante sistema di ventilazione con un estrattore qui, c'è una presa d'aria qui laterale, è abbastanza atipica per quanto riguarda la protezione dei caschi, ovviamente arriva con una chiusura WD e questo ne testimonia anche il possibile uso racing, la visiera che vedete qui è una visiera iridium, ci sono ovviamente tutte quante le tonalità, quello che abbiamo qui è una versione nera opaca e giallo alta visibilità, che sono i caschi che ultimamente preferisco visto che è sempre più pericoloso andare in moto visto che non ti vedono, RPH ST a 399,90, ne arriva un altro, questo è un demi-jet molto profondo, come tutte le altre novità che abbiamo presentato è in fibra ed esce in tre calotte, si chiama FGJET e costa 199,90 e la cosa importante è che questo è un casco in fibra, ha un sistema di visierina parasole che andiamo a vedere qui con sgancio rapido e prese d'aria molto turistiche, ma con il micro molto simile con la regolazione a quello di un casco racing, vedete che funziona davvero, entrando qui nel dettaglio della presa d'aria, vedete che con i vari click la presa d'aria si apre davvero ed ha veramente la sensazione del cambiamento, visiera molto profonda, anche qui sgancio rapido, interni estraibili, cerco di smontarlo per farvelo vedere, ecco il boltone qui in sanitized e questo FGJET costa 199,90, passiamo davanti alla telecamera, l'ultimo, vediamo se riesco a fare tutto senza sbagliare, è il jet minimale FGJET, sì no FG70, che va dal prezzo da 149 a 170 euro, 149 il monocolore, ha di interessante la visiera parasole estraibile qui, con nessun sistema aggiuntivo per mantenere intatta la linea del casco solo con una linguetta, è possibile anche montare il bubble perché ci sono questi bottoni qui, questa è una versione opaca, tre calotte anche per questo, come tutti i caschi, ah questa è una calotta, sì una calotta per questo, e il diciamo così in fibra e il peso veramente molto ridotto, un chilo scarso, compreso di tutti quanti i meccanismi, visiera, cinturino e interni, tenete conto che molte aziende pesano il casco soltanto tenendo la calotta, da HGC direi che è tutto, io voglio chiudere con il casco di Org e auguriamo buona fortuna per il mondiale, voi saprete com'è andata, anzi in bocca al lugo per buona fortuna porta male, voi sapete com'è andata quando vedete questa clip, noi ancora non lo sappiamo, chiudiamo veloce e andiamo a vederci la gara, ciao da Mr. Armet da ECMA.